Benvenuti ragazzi, andiamo a Cologna da Bremen e ovviamente ho dovuto tornare di nuovo ok, andiamo a andare oh, wait oh my god ok, ora possiamo and here ok 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 Questa volta ho fatto un po' più lungo. Triple, Triple Per balancare da le precedenti Grazie a tutti. 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 We are halfway through. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.